Buongiorno a tutti, ciao, guardate questo negozio vuoto, vuoto, perché abbiamo deciso di chiudere fino a giovedì, sì, esatto, perché il tempo per prendere un po' la coscienza, giusto? Sì, perché il comportamento rispettoso nei confronti degli altri, anche per se stesso, perché io mi sono preoccupato per voi ovviamente, ma mi sono preoccupato anche per i miei colleghi, perché è giusto prendere una giusta misura di precauzione, io sono contentissimo di aver chiuso questi tre giorni, perché, e poi li apriamo venerdì, perché poi settimana prossima ci sarà, settimana anche dopo ci sarà, no? Certo, ma basta essere preparati, giusto, in effetti, è consapevole, sì, e quindi, allora, chiedo a te, e che tu sei responsabile anche dell'igiene della nudo camera, no, della salute, salute della nudo camera. Sì, sì, diciamo che sono rappresentante per la sicurezza, conosciamo bene, ormai tutti noi sappiamo del coronavirus, ma è un virus, chiaramente, è vero che si diffonde abbastanza velocemente e rapidamente, però rimane sempre un virus che è possibile, come dire, debellare o comunque essere protetti con delle semplici regole, come ad esempio lavarsi le mani spesso, noi qui abbiamo un dispenser di gel igienizzante che è facilissimo da utilizzare, come vedete... È bello, però, è bello, perché ho scelto una versione più, più, diciamo, elegante. Elegante, esatto, quindi veniteci a trovare, vi potete igienizzare le mani velocemente, tranquillamente, senza nessun problema. Una volta fatto questo, lavate le mani, è giusto magari tenere un minimo di distanza, ma tutto qua, niente di più, ecco. Ebbè, però, se avete febbre, se avete, non so, cioè, raffreddore, micidiare... In quel caso, come al solito, casa, qualche giorno di riposo a casa, vi prego. Scriviamo. Allora, noi comunque, se potete, secondo me è anche giusto, allora, noi mettiamo novità, eccetera, eccetera. Se potete evitare di venire, cioè, fare anche per corrispondenza, probabilmente è saggio, saggio per voi e per la vostra famiglia, anche per noi, no? Perché è per corrispondenza, cioè, si lavora, anche oggi abbiamo spedito, anche ieri abbiamo spedito. E tantissime cose stiamo spedendo, quindi senza problemi, anche. Tranquillamente, quindi noi siamo sempre qua, comunque da venerdì, saremo a nostra completa disposizione ancora, riapriremo le prenotazioni. Sì, certamente, no, no, sicuramente, riapriremo le prenotazioni, tutte le cose. Quindi tutto, tenteremo di tornare alla normalità, tenendo però sempre a mente le regole opportune di igiene che dobbiamo avere, ma non adesso, sempre dovevamo averle, cioè, ora in maniera particolare. In effetti, non vi offendete, per cortesia, se noi insistiamo di chiedere, la preghiamo di lavarsi le mani? Perché no? Poi abbiamo anche il bagno, molto bello, anche grande, con due postazioni e con... Sì, cioè, chiedeteci, se volete andare a lavarsi le mani bene, con il sapone, chiedeteci. Mi faccio entrare il nostro bagno, bello, pulito, grande, proprio sempre igienizzato. Assolutamente sì. Sì. Così come tutto il nostro materiale usato. Ah sì, anche questo è vero, perché il nostro materiale usato viene pulito, igienizzato, perché va bene che c'è anche scromatura, c'è un po' di, diciamo, abrasioni, ma non vogliamo che sia sporco, questo non vogliamo mai, e quindi utilizziamo Chantecrel, c'è Alcor, questo, quell'altro, viene pulito, sino anche ghiera, cioè proprio ghiera degli obiettivi. Certo. Bene, ok, allora vi aspettiamo per venerdì, ok?